Ciao ragazzi sono DGSNJ, allora vi aspetto al Kendo Park Hotel per ballare insieme a me, festeggia insieme a me l'arrivo del nuovo anno, DGSNJ Live 31 dicembre per ballare tutti i miei grandi successi, la fiesta reggaeton, lumbavana, allegria, allora 31 dicembre con Sennij, attacca io, ci vediamo ragazzi.